Noi siamo, l'Italia è un grande paese perché dà dei grandi risultati sul piano scientifico. Forse non siamo capaci di far conoscere prima di tutto al nostro paese quello che i nostri ricercatori sono in grado di fare? Io credo che le cose siano cambiate recentemente, ci sono sempre più rapporti, sempre più scambi con gli altri paesi. Io penso che il fatto che anche molti italiani all'estero riescano molto bene, abbiano un ruolo di responsabilità, anche persone molto giovani, indica che il nostro paese è ben conosciuto e si fa ben conoscere. Le faccio un'ultima domanda relativa all'approccio che i giovani oggi hanno con la scienza. Cosa dobbiamo fare per incrementare l'approccio e l'amore dei giovani verso la scienza? Iniziative come queste sono un esempio di quello che uno può fare. Un museo con una mostra permanente di questo tipo, ben fatta, molto ben spiegata, in modo semplice, in modo accattivante, che spiega i concetti di base ma mostra anche le tecnologie, è senz'altro un esempio di come si possano attirare i giovani alla scienza. Grazie.